E what's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo video. Giusto ieri sera, quando ho finito di riguardare questo film di animazione, mi sono chiesta e richiesta come è stato possibile che io non ve ne abbia parlato fino ad ora, perché questo film ragazzi è stato pubblicato su Netflix, quindi un film originale Netflix, l'anno scorso, quindi periodo di Natale dell'anno scorso, periodo in cui io ho guardato per la prima volta questo film, quindi l'abbiamo guardato effettivamente appena dopo essere stato pubblicato e continuo a chiedermi perché non ve ne ho parlato fino ad ora, quindi questo forse già vi farà capire che ovviamente l'ha sottoscritta immensamente apprezzato questo film di animazione. Quindi un'altra domanda che mi sorge spontanea ragazzi e con cui vi introduco, ok, in questa recensione, quindi forse questo già vi farà capire un pochettino di cose, la domanda che sorge spontanea, perlomeno che sorge spontanea a me, è come sia possibile che questo film non abbia vinto l'Oscar a miglior film d'animazione, perché sì, è stato candidato ragazzi a questo premio, io ho seguito la notte degli Oscar, è stato tra l'altro se non sbaglio il primo premio che è stato annunciato durante la nottata degli Oscar, e sono rimasta estremamente delusa ragazzi perché hanno preferito dare il premio a Toy Story 4. Ovviamente adesso ci diremmo, eh ma è un film Pixar di qua, di là, sinceramente ragazzi fra i due secondo me Toy Story 4 non meritava assolutamente la vittoria, certo potrà essere pure un bel film, io l'ho guardato ragazzi, però sapete vi dico sempre la verità, vi dirò sinceramente che a me Toy Story 4 non piace per niente, non è piaciuto per niente e penso sia il Toy Story più insignificante che abbiano fatto, che hanno fatto secondo me giusto per, molte persone credo siano del mio stesso parere, nel senso sono convinte che non c'era alcun bisogno di quel film, la trilogia di Toy Story poteva concludersi esattamente col finale di Toy Story 3, hanno voluto fare quest'altro capitolo che secondo me ragazzi era veramente inutile, e a me non è piaciuto per niente, quindi quando ho visto che hanno preferito dare il premio a Toy Story 4, dopo aver guardato Klaus ragazzi, veramente sono rimasta delusissima, perché secondo me questo film ragazzi meritava assolutamente la vittoria, quindi come vi dicevo è un film originale Netflix, quindi è online diciamo, è disponibile più che altro soltanto su Netflix, se ce l'avete e non l'avete ancora guardato, siamo in periodo natalizio, c'è tutto l'anno ma adesso a maggior ragione proprio in questo periodo ragazzi, vi straconsiglio di guardarlo, ve lo dico, di solito questa è una cosa che magari si dice alla fine no, di una recensione, nel senso quindi alla fine pareri conclusivi, lo consiglio o non lo consiglio? No, io ve lo dico già all'inizio ragazzi, senza starci a perdere troppo tempo, se poi vorrete stare ad ascoltare perché mi è piaciuto così tanto, benissimo, ma io già a prescindere, vi dico assolutamente guardatevelo, è quindi un film d'animazione e tra l'altro ragazzi in 2D, anche se non sembrerebbe, non sembrerebbe, però allora andiamo un attimo per gradi ragazzi, perché già sto cominciando a svarionare, io non mi sono scritta nulla per questa recensione, quindi aspettatevi che i miei ragionamenti vadano un pochettino perdendosi fra di loro, quindi questo film si chiama Klaus, si intitola Klaus, vabbè questo era chiarissimo ragazzi, è un film quindi d'animazione che ovviamente riguarda comunque il periodo natalizio, fondamentalmente, ma come se fosse una sorta di contorno per un messaggio ovviamente un pochettino più ampio, diciamo così, e la trama ragazzi diciamola in modo molto striminzito perché non voglio fare spoiler, il nostro protagonista è Jasper, un ragazzino viziato fondamentalmente, che non ha combinato mai nulla in vita sua, e che viene mandato su un'isoletta sperduta da suo padre, che è capo se non sbaglio delle poste, dei postini, insomma il capo supremo di qualsiasi cosa praticamente, quindi lo manda su quest'isoletta sperduta col compito comunque di affrancare ben 6.000 lettere, per farsi di poter tornare alla propria vita agiata, quindi i propri lussi eccetera eccetera, comunque quindi per farsi che dimostri di essere capace perlomeno di fare qualcosa, di potersi impegnare perlomeno in qualcosa, quindi l'obiettivo era quello, lui ovviamente quindi va su quest'isoletta e poi ragazzi tutto quello che succede succede, fatto sta che all'interno della trama ragazzi quindi c'è una sorta di spiegazione diciamo così, di com'è nata la leggenda attorno a Babbo Natale, anche se è nello specifico ragazzi fatta ruotare per questa storia ok, quindi non nel mondo, è comunque com'è nata la leggenda di Babbo Natale in quel mondo lì diciamo così, ed è meravigliosa questa cosa ok, quindi attorno a tutto questo poi viene fatto ruotare ovviamente un messaggio che vuole essere molto più ampio, molto più importante, però non voglio dire altro ragazzi, non devo evitare spoiler, quindi se questo già aveva messo un minimo di curiosità, quindi per gli amanti di comunque Babbo Natale, per gli amanti della leggenda di Babbo Natale, questo dovrebbe essere un motivo in più per volerlo guardare, ma chiusa ragazzi la parentesi della trama, ovviamente io non penso ragazzi che mi dilungherò poi tanto, perché non sono comunque un'esperta cinefila, e quindi non posso essere molto specifica nella spiegazione di certe cose, io solitamente vi racconto di più le sensazioni ok, che ho provato guardando magari qualcosa, vi dicevo che questo è un film d'animazione in 2D ok, però è stato fatto raga così bene, cioè è così bello, poi tra l'altro ha uno stile di disegno, uno stile di colorazione, uno stile della fotografia anche, cioè raga assolutamente unico secondo me, stile che io non avevo mai visto, perlomeno fino ad ora ragazzi, in nessun altro film di animazione, e ragazzi io penso che sia un piacere per gli occhi questo film, veramente nel senso che in qualsiasi ambiente ci si trovi, in qualsiasi situazione, in qualsiasi atmosfera, che sia anche la più cupa e la più grigia, sono stati capacissimi di renderla visivamente meravigliosa ragazzi, poi lo sapete di solito quando una cosa mi piace, io tendo molto ad enfatizzare la mia estasi no, però secondo me ragazzi veramente visivamente è bellissimo, è veramente bellissimo, sono belli poi tra l'altro i disegni, anche loro insomma nel loro stile diciamo così, sono bellissimi i disegni, sono bellissimi ragazzi appunto i paesaggi, gli ambienti, sono bellissimi i personaggi, ognuno ovviamente con la sua caratteristica peculiare, sono bellissimi anche perché no i movimenti dei personaggi, raga cioè è fatto veramente benissimo cacchio, vi ripeto visivamente è una gioia per gli occhi secondo me, anche come vi dicevo poco anzi, nell'ambiente più cupo e grigio che abbiano potuto fare ragazzi, cioè secondo me non si può che rimanere sbalorditi ok, a me perlomeno fa questo effetto qua, io guardo quel cartone e ragazzi rimango veramente incantata, proprio alla faccia di tutti gli effetti computer grafica, che ficcano sempre ora come ora ragazzi, nei film d'animazione di ultima generazione, bla 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 bla, dopodiché andando avanti quindi non solo visivamente sono riusciti a fare, regà qualcosa che è bellissimo, ma anche musicalmente perché pure dal punto di vista della colonna sonora, regà io veramente non riesco a trovare, io non riesco a trovare, adesso parlando del sonoro ma parlando più in generale, non riesco a trovare nulla che stoni in questo film animato, anche se molto probabilmente magari qualcuno a cui non piace, che a me mi sembra veramente impossibile che qualcuno non possa piacere, ma pure lì su gusti qualcuno a cui non piace potrebbe venirmi a dire, eh ma vabbè solito filmetto sul Natale, solito filmetto che cerca di trasmettere quel solito messaggio, ok? Ma ora come ora ragazzi, oggigiorno è comunque impossibile riuscire a cacciare fuori qualcosa che non sia stato già fatto, visto o sentito, quindi ok potrebbe anche essere considerato un qualcosa di un po' già visto, ma secondo me è stato affrontato in un modo, comunque con una storia anche molto particolare, perché è bello ragazzi il modo in cui viene a crearsi appunto questo mito di Babbo Natale, riguardo il fatto che comunque Jasper sia un postino eccetera eccetera, quindi è particolare anche per quella cosa lì ragazzi, quindi veramente non bisognerebbe soffermarsi alla superficie, ma guardarlo e basta, e goderselo senza stare lì a fare troppo i giudici, a fare troppo i critici, ok? Quindi ritornando, perché poi io svariono sempre ragazzi, alla questione del comparto sonoro, della colonna sonora, regà bellissimo anche lì, veramente belle, belle pure le musiche, belle le atmosfere, belle le musiche d'atmosfera, belle anche gli effetti sonori, cioè veramente, cioè secondo me regà fatto, fatto bene, fatto bene, ma da qualsiasi punto di vista, cioè di che altro potrei parlare fondamentalmente, di questo, è bella la storia, sono veramente certi momenti ragazzi, ci sono dei momenti molto molto emotivi, molto emozionanti, ovviamente vi immaginerete quello che significa, nel senso che giocherina, quindi la sottoscritta, ovviamente piange, piange anche in diverse occasioni, guardando questo film, e quindi questo vi fa capire, che questo film non è bello solo visivamente, musicalmente, è bello proprio da vivere ragazzi, perché c'è più di un messaggio, poi tra l'altro, io penso all'interno di questo film d'animazione, ed è bello poterli cogliere tutti, anche perché ragazzi i messaggi sono comunicati, in una maniera anche abbastanza semplice, oserei dire, quindi sicuramente è un film animato, adattissimo ovviamente, ai bambini, anche ai più piccoli, anzi io straconsiglierei la visione, soprattutto ai bambini più piccoli, ma anche un film animato per adulti, cioè raga, io sinceramente non so, quale altre parole spendere, per farvi capire, che secondo me questo film, meritava assolutamente la vittoria, alla notte degli Oscar, e mi sono girate veramente tanto le palle ragazzi, quando ho sentito, che hanno premiato invece Toy Story 4, perché secondo me non c'è storia, non c'è storia, Toy Story 4 vi ripeto, sarà stato un bel film, bello magari il messaggio, che ci vuol stare dietro, anche se secondo me regà veramente, non valeva la pena, Klaus invece valeva la pena ragazzi, tutta la vita, perché è bellissimo, cacchio, io penso di non poter usare altre parole, penso anche di non volermi dirungare oltre, perlomeno non volermi dirungare troppo, perché comunque, significherebbe soltanto ripetere, cose che ho già detto, e penso di aver detto tutto quello, che potevo, nella mia ignoranza, dire, per comunque farvi capire, che questo film ragazzi, è meraviglioso, e va assolutamente guardato, magari non solo nel periodo di Natale, qualsiasi periodo dell'anno ragazzi, è veramente un bel film, con un bel messaggio, è da vivere, è da godere appieno, per cui il parere che devo darvi adesso, ve l'ho dato all'inizio, ve lo ripeto, quindi io consiglio questo film, lo straconsiglio ragazzi, non lo consiglio soltanto, lo straconsiglio, perché hanno fatto un lavoro, eccelso, tra l'altro anche, ecco, divertente in alcuni momenti, quindi hanno saputo dosare benissimo, anche la componente humor, con quella, un pochettino più emotiva, ok, quindi, regà, questo film non manca veramente, assolutamente niente, sono bellissimi anche i personaggi, sono stati bravissimi, anche i doppiatori, ecco, se proprio vogliamo parlare, di un altro aspetto ragazzi, Klaus viene doppiato da pannofino, quindi vabbè, già solo quello, però per il resto, anche gli altri doppiatori, ecco, mi stavo dimenticando di questo, di questo aspetto qua, sono stati veramente, veramente bravi, devo essere sincera, se non sbaglio, tra l'altro, Jasper è stato doppiato da Marco Mengoni, che sappiamo benissimo essere un cantante, quindi non è proprio un doppiatore di mestiere, ma devo riconoscerlo ragazzi, in questo film è stato proprio bravo, è stato bravo lui, pannofino, vabbè, non c'è manco bisogno di dirlo, e come tutti gli altri, come tutti gli altri, anche personaggi secondari, veramente bellissimo, eccelso, da ogni punto di vista, quindi, giocherina, me lo consigli Klaus, ve lo strastra, consiglio, non solo in periodo di Natale, ma adesso, a maggior ragione, visto che è il periodo di Natale, l'atmosfera giusta ragazzi, guardatelo, guardatelo, se avete dei figli, se avete sorelle, fratelli, anche un po' più piccoli ragazzi, guardatelo, insieme a loro, visione assolutamente da non perdere ragazzi, per chiunque, veramente per chiunque, consigliato per tutte le età, quindi, penso di aver parlato forse anche troppo, forse mi sono anche ripetuta, un po', un po' troppo effettivamente, però sapete raga, quando non mi preparo un discorso, io veramente vado sempre, perdendomi all'interno dei miei pensieri, per cui, se invece il film l'avete già visto, ovviamente ragazzi, aspetto i vostri pareri, qua sotto in commento, per cui, questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, e obdoscio a tutti ragazzi, da Giocherina, ciao!